Si è ufficialmente insediato il nuovo comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela. Si tratta del Maggiore Antonio De Rosa, 43 anni, nativo di Firenze. Arriva dalla compagnia di Santa Margherita Ligure. Prende il posto dell'omologo Valerio Marra, trasferito a Roma, dove dirigerà il comando per la tutela del patrimonio culturale. Io ho avuto un'accoglienza splendida, molto calorosa. Sicuramente l'impegno che vengo a coprire è molto impegnativo, però sono certo che mi troverò bene sia dal punto di vista ambientale sia perché ho la fortuna di trovare un reparto efficiente che chi mi ha preceduto ha potuto rodare in questa maniera e quindi penso che potremo lavorare bene con la collaborazione della cittadinanza per garantire sempre maggior sicurezza e tranquillità a questa città. A proposito, cosa ne ha lasciato il suo predecessore? Mi ha lasciato tanti buoni ricordi di questa esperienza vissuta sia per la gente che ha trovato sia per quanto riguarda i rapporti interistituzionali che sono ottimi, che sono fondamentali per poter lavorare bene. Una città difficile, Gela. Le chiedo quali sono le emergenze da inseguire e sulle quali state lavorando? Guardi, è una città che ha tutto un background storico relativo alla criminalità organizzata. È chiaro che lavoreremo in maniera incisiva anche su questo aspetto. Però è una città che vedo che sta sbocciando anche per quanto riguarda la criminalità predatoria, quella più percepita dai cittadini. Quindi il nostro impegno sarà anche rivolto a questo aspetto. Un altro aspetto fondamentale che seguirò, seguendo anche quello che ha fatto chi mi ha preceduto, è quello del contatto con le scuole. Perché bisogna guardare al futuro, guardando alla formazione delle nuove generazioni. Quindi sarà molto stretta la collaborazione con i dirigenti scolastici e con tutte le altre istituzioni che si prodigano per il futuro di questa città. Numerose operazioni negli ultimi giorni anti-droga, scoperte tante piantagioni di canapa indiana. Le chiedo, se c'è una vendita vuol dire che c'è una richiesta? Assolutamente. Purtroppo anche in quest'area abbiamo constatato che c'è una grandissima richiesta di droga. Peraltro il fatto che venga prodotta in quantità così cospicua consente anche di avere prezzi più bassi sul mercato e quindi agevola il fatto della vendita. Stiamo appunto battendo su questo campo. Questa settimana abbiamo avuto già tre notevoli operazioni da questo punto di vista con la scoperta di tre piantagioni e stiamo continuando a farlo perché la zona, abbiamo visto, è molto florida da questo punto di vista. Denunciare ogni forma di illegalità. Il Masore della Rosa si rivolge direttamente ai gionesi. È fondamentale la collaborazione tra i cittadini. Se vogliamo cambiare lo stato delle cose è importante che la gente prenda fiducia nell'istituzione e si rivolga a noi e alle altre istituzioni per poter superare questa impasse.